... e non è sentito dire, è ovvio che è il tranceculto che non si può essere avanti, non si può essere avanti, non si può essere avanti, non si può essere avanti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti, John, per il tuo rapporto. Per te è... Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.